Quasi mezza tonnellata di rame sequestrata, aziende di Pesaro e San Marino messe in ginocchio e otto uomini denunciati per furto aggravato e ricettazione. Questo è il frutto dell'operazione Metal Detector, portata a termine dagli agenti della polizia di Pesaro insieme ai colleghi di Rimini e alla gendarmeria di San Marino. La banda sgominata, composta da Rom, milanesi e campani, aveva una base d'appoggio in un capannone di Rimini in zona Sacra Mora e metteva segno furti di oro rosso e altri metalli preggiati. L'indagine è partita nell'ottobre scorso, quando avevano rubato un camion carico di alluminio nella ditta pesarese di trasporti Graziano Guerra. Ma dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza si è riusciti a risalire alla targa di un'auto e poi a tre componenti della banda. I malviventi, di età compresa fra i 25 e i 43 anni e già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati poi sorpresi nel capannone di Rimini, intenti a spellare grossi cavi elettrici per prepararli alla vendita. Da questi fili ricavavano 7 euro al chilo. Il continuo delle indagini ha consentito di identificare in fretta gli altri 5 criminali anche loro, pregiudicati di età compresa fra i 40 e i 50 anni. All'attività del gruppo sono stati ricondotti altri 5 colpi tra la provincia di Pesaro e Urbino, in altre italiane e nello stato di San Marino, dove è stato rubato anche materiali in bronzo e ottone per circa 20 quintali. Un danno indotto inestimabile per le aziende? Sicuramente, sicuramente il danno non è tanto nella sua quantità quanto nel valore degli oggetti che erano stati trafugati e che causavano una importante perdita per l'azienda che aveva difficoltà a riprendere le attività. I furti a San Marino quando sono stati messi a segno? Sono stati messi a segno quest'anno, a partire in realtà dal 2014. Naturalmente sui furti sanmarinesi erano già aperti dei procedimenti penali che poi metteranno nelle condizioni le magistrature dei due paesi di poter interagire a loro volta con una collaborazione internazionale. Sono furti gravissimi, ha sottolineato il dirigente della squadra mobile di Pesaro, Silio Bozzi. I furti riescono a provocare danni ingenti non solo alle aziende che subiscono il furto ma anche al commercio e alle ditte collegate come quelle di trasporto. Questa tipologia di furti è in grado di attrarre l'attenzione criminale naturalmente di soggetti provenienti da aree criminali diverse. Quindi abbiamo la presenza di un Rom, di due milanesi e di campani. Ecco, questa è una delle caratteristiche preoccupanti di questo tipo di furti, di delitti. Ora procederà l'autorità giudiziaria di Rimini. Come ha sottolineato più volte è stata molto importante questa collaborazione fra stati e fra repubbliche? In questo caso sì, ma la collaborazione è sempre importante nelle attività investigative. Spesso i risultati si ottengono anche con la collaborazione dei cittadini. Quindi vediamo come la collaborazione e la squadra ha sempre una marcia in più. I furti nella nostra provincia sono in calo, sono in aumento? Io ho già detto in occasione della festa della polizia, siamo una città in controtendenza, fortunatamente. Questo dimostra che l'attività investigativa, l'attenzione nostra, l'attenzione della polizia di Stato verso questo reato predatorio è molto alta.